Ciao, adesso vi domanderei cosa fa quel semplice lì, con il capello sulla testa, un grembiale, con dei giornali dal davanti. A dire la verità, mi sono nato dal fabietto, quel dell'abuso, sai quello che fa l'editor sulla busa? Sono andato per fare le foto, le foto per me scaduto la carta d'identità, e mi dice, mettete intorno al capello e mettete intorno al grembiale che vado a farti una domanda. Mi che sono anche un po' semplice, mi sono messo intorno al grembiale. Adesso mi fa una domanda, mi dice, che pensi di quei che vanno al bar a leggere il giornale la mattina? Questa domanda è questa qui? La mattina vado lì dalla Antonietta del sole tutte le mattine, vado al carletto, non blocca i giornali perché non vado a fare le pagine, e lezzo, quando finito l'esero, vado al turassa, quello che fa il farmacista a Vesam, e lo tolgo anche dal giornale, camminiamo, e non avevo mai problemi tutte le mattine a leggere il giornale. Però, pensando che venga, il carletto, ma vi domande a tutti quei che la mattina vanno al bar per leggere il giornale, fanno una sbirciadina su quel che è la cronaca locale e così, invece che sempre qualcuno che ciappa il giornale e lo nasconde. Se vai lì dal Pio al Marchetti, vai il Nicoletti sul Cugnato dei Zamboni e tolgo la gazzetta, e dicono, la gazzetta è il solito, e la tende, stretta, 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 neanche se vuole la soveccia morosa. La stessa cosa succede al Pio, e anche in piazza dal Piero Zocca, no? Se vai dal Piero Zocca arriva, quelle due Zocca abitano sotto il Torcio, Adige e Trentino, sotto il culo fino alle onde, nessuno può leggerlo. E il carletto mi dice che anche fuori al bar del Circolo di Vigne, no? Vedi uno da Seole, tutte le mattine, che portano solo le gombe e così, e che sentono messo anche solo, e i giornali non ti lezano mai. Allora, che stai a fare? Dio, potrei anche dare la mente al Fabietto, beh, lezo io, sai che fai la mattina, vengo qui e lezo il giornale, toco fuori le notizie un po' più, che avevano un po' più logica, un po' più di senso, così. Voi altri, non vi arrabbiate con gli altri, no? Perché so, ehi, caffè e aspetto il giornale, dopo un quattro d'ora vi gira le balle c'è per il suo camminere. Almeno aveva qualche notizia che c'era in giro, e ne ha lavorato contenti. Allora, mio, tot e mamma, il giornale Nesti di Chi, grandi notizie, non è che sia venuto fuori, continua a parlare delle elezioni che vengono, le giunte, quel che è candida, quel che non candida, quel da Bologna che sarà, quel che è a Roma, non so cosa si fa, allora mi diceva, invece che sto fuori, è un po' più, che mi pareva che vi piace un po' più. Ad esempio, mi faccio due appuntamenti, bei, questi due appuntamenti, che c'è stasera di sabato, uno lo fa a Drone, a Drone, è chi del, non è ben insegnato bene, non è chi lo fa, no? Però parla del mondo dei cagni, parla del mondo dei cagni, l'esperto, e vi conta, è chi è che mi piace, perché parlerà di come i cagni, e gli vede il mondo, ora, una roba così, io mi detesto, i cagni come vede il mondo, vorrei parlare al Beppi Paia stamattina, vorrei dire, Beppi, ha visto cosa chi fa stasera? Che i cagni che parla del mondo, e mi dice, è ora che anche i cagni dica qualcosa, così dai che dirà al suo padrone, ma perché mi porti sempre il segantino a pisciare tutte le mattine su per le pilastrate? ti pisci a casa tua, fammi pisciare anche a me, quindi Beppi Paia, non mi pensare queste cose, ti vedi che i cagni a volte è più avanti del padrone? Allora, sai cosa che faccio? Stasera, che mando sul carletto, e il carletto, sulla storia di cosa pensano i cagni, l'è bravo perché, va sempre a giocare al circolo pensionato, e gioca a trisac, no? A trisac, sai, il trisac è quel zoc, che quando ti ha i consigli, ti vinci ti, e siccome i consigli gli diciamo sempre, lui gli dice sempre, ti sei in cagni, ora gli mando su, che magari un intervento o due, e gli fa anche lui, magari tira su un po' il valore di questa assemblea sul mondo dei cagni, che fra l'altro, dopo che anche racconta storie, che conta la storia. Un'altra, lei stasera, sempre arriva, questa chi la fa arriva? In me, perché chi la fa? Ah, la fa in biblioteca, gli fa vedere anche un filmato, di cinquantacinque minuti, e il tema è le castagne mate, anche lì come ho pensato le castagne mate, mi conosci i marroni, i marroni dei Bede, Troiana, così, e il Vinicius mi ha detto, ma guarda che le giuro le castagne mate, ti vai qui davanti al bar, al bar chi che che è? Il bar, il bar che non mi aveva il nome, no? Quando casca solo le castagne, ti vedi che le mate, ti dai due peate, non vedo perché bisogna fare cinquantacinque minuti per spiegare, come che le castagne mate, domandevi al Vinicius, ve le spiegano anche a lui. L'ultima cosa, perché adesso comincio a stracarmi, le sedie vela che è sparita a Riva, il Grazioli, di essere un consigliere di Riva, conosce un bravo potente, che dice che gli ha speso 20 mila euro, no? Per le sedie vela, e lei è sparita, non lega più. Allora, magari voi non sapete bene quale che lei è, però è come le sorelle gemelle, di quelle che ha messo, la cassa rurale dal De Fora, quelle fatte così, che quando piove, che sono 20 centimetri di acqua, che 7,3 centimetri, ti bagni tutte le balle, insomma. Quelle lì, insomma. Allora, non gli dico, vabbè, disperate tutti quanti, perché non sappiamo dove sono le sedie vela, ma scusami un attimo, arrivani, ma se le sedie, già sedie vela, le metti al Palacongressi, davanti al Mollo della Fraglia, che è l'ora, alle 1 e mezza, alle 1 e mezza, alle 1 e mezza, e dopo che vada le sedie vela, le ciappa tutte quante, te le troverai su a Sperom, le su a Sperom domani mattina, ti tranquilli che le troverai tutte quante. altre notizie, non mi pare che che sia, la prossima volta, spero che veni a qualcuno a darmi la mamma, adesso, che faccio? Siccome è il Mammes Kimmerlot, lo sognacca se l'è di quel giusto, è il tasto, bevo un goz, vi saluto, alla prossima volta, penso del Tor Medrio il Beppi Paia, se l'è d'accordo anche a lui di via. Ciao, saluti a tutti.